Buongiorno a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Furabi Nintendo. Questo video è dedicato a un evento di Pokémon GO che stiamo cercando di organizzare a Roma. La cosa più importante è che dovete visualizzare il video di presentazione evento di Pokémon GO Fest Roma che trovate qua in descrizione. Pensate che bello se questo evento riusciamo a organizzarlo a Roma grazie anche alla community Pokémon Italia. Ma per riuscirci ci serve tutto il vostro aiuto, quindi cliccate più non posso, il video è in descrizione. E amici, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo a un prossimo video. Cliccate il tasto mi piace, condividete il video e iscrivetevi. Ciao! Grazie a tutti!